Il genio straordinario di Leonardo da Vinci in mostra a Roma le scuderie del Quirinale, appuntamento stamane per l'inaugurazione col primo visitatore che arriva a piedi dal lato opposto della piazza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La scienza prima della scienza si intitola l'esposizione ideata per celebrare i 500 anni dalla morte di un protagonista assoluto del rinascimento non solo italiano, architetto, scultore, pittore, progettista, inventore, uomo dalla versatilità e curiosità insaziabili. La mostra aperta oggi alle scuderie spazia appunto dallo sviluppo di macchinari per i cantieri di costruzione all'arte della guerra, allo studio di rudimentali ma ingegnose per quell'epoca macchine per il volo e molto altro ancora, c'è tempo per visitarla fino al 30 giugno ma le celebrazioni comunque non finiscono qui per un genio assoluto del pensiero e dell'arte che il mondo intero invidia all'Italia. L'elenco delle iniziative di cui 78 al momento sono quelle appoggiate da un apposito comitato va dalle rituali e missioni filateliche ad iniziative nelle scuole, mostre, un'app dedicata e una serie tv a firma Luxvide.